Il match è forte e buono, abbiamo controllato il gioco, giocavamo contro l'equipa secondo il passamento, hanno avuto occasioni da gollo, hanno avuto occasioni da gollo loro, il match è forte e buono è giocato da tutte e due l'equipa, noi abbiamo avuto l'occasione ultime due minuti con il match, sono molto felice per il risultato, per me il risultato uguale è il risultato di questo match, spero che i baieti continuano fino a terminare e cerchiamo di aggiungere più punti per evitare E' un punto in clasamento, abbiamo un eroio, ancora siamo l'unica equippa che non abbiamo castigato in match, cerchiamo di fare un match molto buono con Bistritza e cerchiamo di fare prima vittoria in campionato. Io credo che l'equipa mia, io credo che l'equipa mia ha fatto un gioco molto buono, ha controllato bene il gioco dei panduri, avevo visto il panduri in Coppa di Roma contro il Dinamo, sapevamo che un po' un po' su basso di Tom, ma credo che l'equipa mia è stata un gioco buono con Bistro, C'è la prima vittoria? C'è la prima vittoria? Prima vittoria è la prima vittoria con un match che viene bene è normale con l'obestitia controllente nostra per evitare la regolazione abbiamo nevoie di tre punti abbiamo nevoie di prima vittoria questa è la mia ma interessa di gioco si mi due l'equipo e in caldo se basi steaua? Acum vorbesc di giocare contro lini e contro l'obestitia E stati la prima vittoria con frontabilei? Inoltre? No, andici n-am mai stat con fronte, molto difficile Am giocato contro Cefere Gluci E normale, veniamo in modo a due partite n-au facut bine, dar baietile am giocato prima vittoria con Cefere Gluci dopo in seconda ripresa abbiamo fatto bene l'avevamo perduto meritatamente e in Coppa di Romania l'avevamo giocato bene Astasi chiedevo ai baietzi di fare un match buon-Astasi e hanno fatto bene come hai visto come hai vinto a fare con tutti i panduri a perciare lui? Un perciare forte, un perciare che merita posizioni di seconda in terza riva a colpa lui deve continuare bene poi c'è un'equipa un uterno e c'è un'equipa che merita di stare profezionale A poi si ha ridicato a livello i derby partite alle altre? Derby all'uterno? C'è un uomo derby all'uterno? Derby all'uterno? E' un uomo che non mi manca l'Università di Lai E' un uomo